La linea di continuità appunto di questo festival del suono che Mirko Mancaccia ha pensato come festival che indaga sul senso che il suono ha per la vita delle persone in generale, verrebbe da dire, poi mi corregge Mirko e lo fa tranquillamente e quindi all'interno di questo festival si indaga su vari aspetti che riguardano l'influenza che il suono ha sulla nostra vita, sono influenze positive e possono anche essere negative, tant'è vero che l'argomento centrale spesso, ricorre anche quest'anno, è il rumore come elemento che crea anche danni seri. Non è questa l'intervista in cui parliamo di questa cosa ma per dirti che si indaga anche sugli aspetti negativi. Invece voi rappresentate gli aspetti positivi, per quando, esatto, fino a che non sognavano, diciamo a te. E quindi con Matteo Mancuso noi incominciamo questa serie di interviste con musicisti, ospiti della manifestazione inserita all'interno di Collinaria Festival, il festival del suono, per fare una serie di domande che partono ovviamente dalla vostra esperienza musicale, ma cercano di allargare anche al vostro punto di vista su quello che è per voi anche nella vita quotidiana il suono, no? In parte in relazione alla vostra attività di musicista, ma in parte anche come lo subite o lo vivete, sempre da musicista perché non possiamo fare meno di esserlo, ma nella vita quotidiana. Quindi una prima domanda e naturalmente più indaga su quello che è il tuo progetto attualmente da musicista e quindi naturalmente ti chiedo subito che cosa hai portato naturalmente al Festival del Suono, a meno che Mirko non voglia fare subito un'introduzione ulteriore oppure ti inserisci come preferisci. Io sono felicissimo che Matteo sia qui, per cui facciamo parlare lui. Esatto, però questa è la cosa, che cosa hai portato a livello questo festival e qual è il progetto che ascolteremo questa sera? Allora diciamo che l'argomento principale è l'album che uscirà a breve, l'album esce il 21 luglio, quindi la maggior parte dei pezzi del live sono tratti dall'album, poi facciamo anche qualche cover che trattiamo più come tributo agli artisti che ci hanno influenzato di più, quindi facciamo qualche brano di Pastorius per esempio, facciamo Abona, facciamo gli arrangiamenti di The Chicken che abbiamo fatto nel lontano 2017, quindi abbiamo un po' di questo materiale qui più ovviamente gli originali. Quindi l'argomento principale è l'album che si chiama The Journey, che sarebbe Il Viaggio, che rappresenta un po' tutti gli stili e le influenze che ho assorbito durante gli anni di studio. Diciamo che rappresenta un po' gli ultimi quattro anni, questi che sono passati tra conservatorio e suonare live fuori e studiare ovviamente, quindi volevo fare un album che non fosse associato a un solo genere, era un solo stile, o rock'n'roll, o jazz, o fusion, che poi fusion in realtà vuol dire pochissimo. Quindi è un album molto variegato, ci sono anche pezzi con la chitarra classica, ci sono brani appunto più legati alla distorsione, al suono dell'elettrica, e proprio perché il mio obiettivo è quello di non farmi etichettare troppo facilmente, per poi appunto sentirmi libero di poter fare ciò che voglio dopo, capito? Infatti prima dell'intervista facevamo questa chiacchierata, che riprendo adesso in intervista, che noi veniamo da un periodo di chitarrismo italiano che fa riferimento a un ambito americano, prevalentemente parlando di chitarra elettrica moderna, quella californiana, no? Quella, diciamo, ecco, mi pare che proprio tu rappresenti una ripartenza di una nuova generazione di chitarristi che magari non fa riferimento, diciamo, ad ambiti europei o specifici alternativi, ma che mette insieme un approccio moderno proprio a quello che è la chitarra oggi, che fa riferimento, parte dalla fusion, dal jazz, poi sono tutti i termini ovviamente che non hanno più un valore oggi, oppure ce l'hanno, ma i jazz soprattutto, ce l'hanno in una chiamata moderna, ma che si indirizza, come tu hai già anticipato, in una forma molto variegata, no? Che ovviamente ha un percorso anche di formazione proprio personale, che riguarda una modernità che non è più quella dello shredding o come di un certo chitarrismo californiano a cui facevo riferimento, no? Eh sì, sì, diciamo che la mia generazione è molto influenzata dal fatto che abbiamo così tanta musica a disposizione che è praticamente diventato impossibile riproporre certi generi come erano proposti anni fa, nel senso non può mai venire fuori un chitarrista jazz che suona come Wes Montgomery, semplicemente perché, Wes Montgomery per fare un esempio, come può essere Django, Barney Kessel o chiunque, proprio perché a quell'epoca era molto importante, era importantissimo il luogo in cui stavi, proprio perché non avevi a disposizione internet o Spotify dove potevi ascoltare praticamente tutto ciò che proponeva il mondo in quel momento, quindi diciamo che noi abbiamo a disposizione così tanta musica che ormai in quasi ogni caso si può parlare di fusion, proprio perché la fusion come definizione è appunto la fusione di vari generi, quindi adesso secondo me i generi tra virgolette puri si stanno piano piano estinguendo, diciamo, quindi per questo preferisco non etichettarmi perché ormai è diventato troppo difficile trovare una propria identità o comunque dare un nome alla propria musica è diventato troppo, come ti dicevo, fusion non vuol dire più nulla oggi. Assolutamente. C'è un elemento comunque che è la personalità dell'artista che magari è un piccolo elemento, nel tuo caso è la tecnica, cioè in qualche modo mi verrà banalmente da ignorante potrei dire la posizione della mano destra e il tuo modo di pizzicare le corde, su generi dove quella cosa non si vede di frequente. Sì, sì, diciamo che io dico sempre... Che crea il suono, scusami. Sì, crea assolutamente il suono, però io dico sempre che io non ho mai inventato nulla, sono sempre robe prese o dalla chitarra classica o magari dalla tecnica bassistica, è semplicemente raro vederla applicata alla chitarra elettrica. Da un certo punto di vista ti può dare un vantaggio nel senso che sei forzato a trovare magari delle soluzioni diverse rispetto a chiuso il plettro. Di conseguenza magari sviluppi un vocabolario diverso, magari un po' meno omologato rispetto a chiuso il plettro. Incide poi sulla costruzione. E giustamente poi incide, però non è una cosa che ho fatto apposta, diciamo, è semplicemente capitato. Ne sono persuaso. Perché tu vieni dalla chitarra classica, quindi... In realtà ho iniziato con l'elettrica, ho cominciato a studiare classica seriamente a 14 anni quando mi sono iscritto al liceo musicale a Palermo, però in realtà ho iniziato con l'elettrica proprio perché i primi ascolti erano i grandi gruppi rock degli anni 70, quindi Led Zeppelin, ACDC tantissimo all'inizio e probabilmente Hendrix. E quindi il plettro non ti è venuto subito di prenderlo in mano? Il plettro non è stato automatico semplicemente perché vedevo molto spesso mio padre suonare a casa con la classica e pensavo semplicemente che tutte le chitarre andassero suonate in quel modo, con le dita. Non sapevo che con l'elettrica si utilizzava il plettro e con la classica le dita, quindi ho iniziato un po' inconsapevolmente e poi ero talmente abituato a suonare in quel modo che poi ho deciso di proseguire con il modo lì. È molto interessante che di solito i chitarristi hanno dei modelli che sono esterni e sono già formati, che sono i grandi chitarristi, il Guitariro, eccetera. Sbaglio se penso che tuo padre è stato un modello di riferimento da questo punto di vista? No, assolutamente. Mio padre è un modello di Guitariro. Tra l'altro è un modello spontaneo, mi verrebbe da dire. Non è uno che ti ha imposto delle cose, ma magari è stato se stesso, mi verrebbe da dire. Lui è stato molto bravo a non farmi vedere la cosa come un obbligo, perché lui ha in qualche modo capito fin da subito che avevo la predisposizione, però non mi ha mai fatto vedere la cosa come se fosse un obbligo che dovevo prendere la chitarra ogni giorno, tant'è che da piccolo non studiavo neanche tantissimo. La prendevo semplicemente o per suonare con mio padre o per passarmi il tempo. Era più un hobby, l'ho sempre visto come un hobby. Poi piano piano si è andata concretizzando la cosa, soprattutto quando sono andato al liceo, ho cominciato a studiare di più, ho cominciato ad essere un po' più inquadrato, perché ovviamente ho cominciato a capire che poteva diventare una professione. quindi piano piano ho acquisito la consapevolezza e sono andato avanti. Però mio padre è stato molto bravo, soprattutto all'inizio, a non farmi pesare il fatto che magari avevo il talento e quindi dovevo studiare. Diciamo che il dovere non c'è mai stato, soprattutto all'inizio, era sempre prendere la chitarra per piacere. C'è un legame tra questo approccio un po' più leggero, mi verrebbe dire, con l'improvvisazione. Cioè quando si incomincia a improvvisare, uno degli elementi, diciamo, un po' castranti è quello che si incomincia a entrare in alcuni schemi per improvvisare. Mi dici invece il tuo approccio da questo punto di vista? Ma non so se sia un approccio giusto o sbagliato, però in realtà la cosa buffa è che io ho improvvisato fin da subito, in maniera completamente sbagliata, perché ovviamente non... Ecco, sbagliata in che senso? Questo è il bello. Sbagliata dal punto di vista accademico, perché molto spesso il modo in cui ti viene insegnata l'improvvisazione è paradossalmente partendo senza improvvisare. Quindi prima imparando il vocabolario, quello che dicevo. c'è questa sorta di concezione che prima di improvvisare devi essere preparato. Ma se sei preparato allora non stai improvvisando, perché improvvisare vuol dire fare qualcosa sul momento, no? Quindi con mio padre suonavamo molto spesso insieme magari dei pezzi che neanche conoscevo, no? Però cercavo di seguirlo con l'orecchio, cercavo di usare molto l'orecchio e stare lì al passo con lui. E la cosa che secondo me mi ha aiutato molto è il fatto che lui non mi correggeva mai quando suonavo. Fantastico. Mi diceva semplicemente fai quello che vuoi, fai quello che ti senti di fare anche se poi è sbagliato, però segui quella idea. Ed è un po', se ci pensi, e questa analogia l'ho sentita da Victor Wooten che oltre ad essere un super bassista è anche un didattico incredibile. Quando i bambini imparano a parlare, no? Tu non correggi la loro pronuncia, no? Magari al posto di galleria dicono gabberia o comunque qualsiasi altro esempio e tu magari pronunci la parola come la dicono loro, non li correggi, anzi la pronunci come la dicono loro, no? E questo è un po' come io ho visto l'improvvisazione, soprattutto all'inizio. Era una questione di adeguarsi al linguaggio con la persona con cui è davanti, no? Trattarla semplicemente come qualcuno che sta imparando un linguaggio e correggerlo ogni volta semplicemente lo castri. Devi lasciarlo libero di imparare piano piano come appunto, come i bambini imparano l'italiano praticamente. Anche perché poi quando ti rivolge a un pubblico che invece non è sempre colto e non conosce la grammatica della musica ma riceve solo le sensazioni in qualche modo e le vibrazioni emotive paradossalmente arrivano di più queste che sono quelle che, no? Sì, sì, assolutamente. È una maniera secondo me più diretta di imparare l'approccio improvvisativo in generale. Poi è ovvio che parte tutto dall'ascolto. Quindi se vuoi improvvisare in maniera con il linguaggio jazzistico devi comunque ascoltare quel tipo di musica lì. Ma è un po' come imparare la lingua. Non puoi imparare a parlare lo spagnolo soltanto leggendo i libri. Anzi, impari meglio lo spagnolo soltanto se ascolti. Quindi è strettamente collegato è un po' lo stesso percorso di come quando impari una lingua praticamente. Tutto questo attiene a una ricerca di suono perché ovviamente è quello che hai dentro e lo esprimi con i tuoi strumenti personali eccetera. Ma ci sono delle cose che riguardano invece la ricerca sonora di cui vuoi parlare. Quindi entriamo proprio nell'argomento il tuo suono e la tua idea di suono Sicuramente dal punto di vista puramente del suono io ho avuto un lungo periodo in cui il mio unico amplificatore era un microcube della Roland due watt di potenza una scatoletta una scatoletta e quello che cercavo di fare era di in qualche modo raggiungere le sonorità dei chitarristi che è tuttora ascolto. Uno dei miei preferiti è Eric Johnson che ha questo suono molto medioso lui usa tantissimo il fuzz e ovviamente col microcube io ero molto limitato però quello che ho imparato è che molto spesso i chitarristi ricorrono troppo spesso ha degli aiuti esterni per raggiungere quel tipo di suono lì quello che ho imparato è che in realtà l'80% della sonorità lo fai dalle mani dall'attacco dal modo in cui prendi la corda o comunque dalla forza che hai nelle dita è la cosa fondamentale poi quel minimo di colori in più lo dai con i pedali ma la gente pensa che per ottenere quel tipo di suono lì devi avere prima di tutto la strumentazione che ha quel chitarrista ma in realtà è una concezione completamente sbagliata ti racconto un piccolo aneddoto una volta uno dei tir di Pat Metini che suonava da queste parti sbagliò Data e andò a Roma era quello col backline invece doveva suonare qua a Viareggio perché è rimasto senza chitarra senza amplificatori senza niente perché ho cercato qui nella zona negozi, amici, eccetera insomma e un amico mio gli ha dato tutto l'attrezzo tutto il backline suo in pratica e quindi ovviamente ho dato al concerto ho sentito il suono di lui il classico suono di Pat Metini poi è arrivato a casa non ha mosso niente perché voleva ha tenuto tutte le impostazioni ha tenuto i pedalini siete attenti a non toccare nulla il potenziale dell'alplificatore è arrivato a casa e ha provato a suonare e non c'entrava assolutamente niente quando si ricerca il proprio suono si è nel proprio mondo ma tutto il mondo esterno in qualche modo influisce sulla nostra percezione anche sonora di partenza il contesto sono da cui si parte tante volte forse incide anche sul nostro modo di agire con gli strumenti in cui facciamo la nostra musica assolutamente sì ma c'è qualcosa hai riflettuto mai su questa cosa anche banalmente mi ricordo Soliman mi parlava appunto di un disco che ha fatto lui credo proprio a Palermo ah un giorno d'ha fatto un disco perché sei riferito alla Vuciria a tutta una serie di suoni in strada eccetera dice io devo ammettere che sono stato influenzato dall'ambiente in cui io ho vissuto per certe cose che ho fatto ora senza condizionarti su quello perché voi venite tutti da Palermo tra l'altro gli altri due componenti diciamolo subito chi sono sì Stefano Vindi al basso e Giuseppe Bruno alla batteria tra l'altro sono tutti e due della provincia di Palermo però questa riflessione l'hai mai fatta sull'ambiente in cui vivi su quello che possono essere le influenze ma anche banali quotidiane sul tuo modo di di reagire anche a quello che ascolti sì sì è anche un po' il modo di di vivere la musica quotidianamente io ho sempre pensato prima di tutto per me il palermitano doc è pigro e io sono assolutamente pigro al cento per cento quindi in qualche modo questo il diciamo il lifestyle che c'è soprattutto al sud influenza anche il modo in cui vedi la musica secondo me con i ragazzi per esempio noi siamo sempre stati del parere che se quando abbiamo registrato i pezzi all'inizio ci facevamo un sacco di take un sacco di eravamo super concentrati però molto spesso le prime take sono quelle più più spontanee no? e tant'è che per la maggior parte dei brani le take sono state sempre le prime tre addirittura per alcuni pezzi proprio la prima quindi secondo me bisogna trovare appunto un equilibrio tra vivere la vita un po' serenamente come facciamo magari al sud a Palermo e ovviamente avere quel minimo di perfezionismo in più che ci sta magari nella musica che facciamo noi che è sempre musica strumentale quindi sì il suono ti influenza sicuramente ciò che ti circonda ti influenza in qualsiasi maniera Palermo è una città a cui io sono affezionato perché è una città io la descrivo sempre come una città molto araba perché è caotica ma allo stesso tempo ci sono degli scorci di silenzio appena ti giri da qualche parte che sono super suggestivi tant'è che c'è un pezzo dell'album che si chiama Silk Road che è un po' è un po' dedicato a Palermo perché il videoclip è tutto girato lì e riprende un po' questa Palermo arabo normanna con le influenze sia sicule che arabe in realtà alla fine è il nostro retaggio quindi perché rifiutarle e quando ti trovi all'esterno fuori dalla tua città come reagisci ai suoni fastidiosi per esempio e rumori se li consideri perché qualche musicista li considera stimolanti qualche musicista elettronico soprattutto te lo dico perché no perlopiù io ho sempre diciamo sono un po' di parte perché io ho una casa di campagna a Casteldaccia che è leggermente fuori Palermo quindi sono sempre stato del parere che se c'è il silenzio certe volte ti aiuta a sentire quello che hai in testa meglio se sei sempre avvolto dal rumore può essere controproducente non puoi captare tutto non puoi fare di tutto stimoli diventi impossibile quindi qualche volta è sempre meglio fermarsi un attimo e ascoltare quello che c'è nel cervello bravo questa frase di chiusura non poteva essere che migliore di questa è fantastico grazie Matteo grazie a voi buona serata buon concerto divertiamoci